Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI per lavori, 5 km di coda in direzione mare tra Lastra Assigna e Montelupo, 1 km di coda in direzione Firenze tra Montelupo e Lastra Assigna. In direzione Firenze è chiusa l'uscita di Ginestra Fiorentina. Segnaliamo che il cantiere chiuderà il 31 dicembre con un mese di anticipo rispetto al cronoprogramma. In direzione mare, code in uscita a Lastra Assigna. Chiusa per lavori l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. In A1 in direzione Bologna, 1 km di coda per incidente tra Firenze e Scandici e il Bivio per la 11. Corsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!